Il numero delle case popolari a disposizione ogni anno è basso rispetto alla richiesta invece di alloggi presenti nelle graduatorie dei comuni. Che cosa serve? Più case popolari o un modo diverso per gestire l'emergenza abitativa? Probabilmente tutte e due. Un numero maggiore di case popolari a disposizione che non siano edifici però di residenza residenziale pubblica che siano possibilità di accoglienza diffusa sul territorio e un nuovo modello di gestione di questo tipo di intervento. Siamo in una situazione di emergenza abitativa e l'emergenza abitativa è dovuta soprattutto alla mancanza di lavoro. E allora pensare che l'unica risposta che possono essere gli alloggi popolari non serve. Serve un sostegno al reddito, serve un sostegno all'affitto a canone concordato, servono appartamenti temporanei per un'emergenza sfratto improvvisa, servono una serie di strumenti organici e diffusi che permettono di rispondere a bisogni sempre diversi. Grazie. 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 Grazie.